Lo yoga è la via per coltivare il corpo e i sensi, per entrare in piena sintonia con il proprio io e raggiungere la pace dell'anima. Un percorso esperenziale che partendo dalla dimensione corporea investe tutte le componenti della persona. La pratica yoga con un percorso mirato consente di contribuire allo sviluppo del bambino fin dalla prima infanzia. Grazie agli esercizi yoga i bambini acquisiscono forza, elasticità, rafforzano il proprio schema corporeo, imparano la corretta respirazione e prevengono vizi posturabili. In esclusiva per la tecnica della scuola il webinar favole in yoga. Vedremo come trasformare le favole in una lezione di attività motoria durante la quale introdurremo le posizioni base dello yoga. Aiuteremo così i bambini ad avvicinarsi all'affascinante mondo dello yoga con fantasia e divertimento. Vi aspetto al webinar favole in yoga. Grazie. 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 Grazie.